comunque sariamo a 150 spettatori ci diamo tutte le zanzane vi faremo avere una dimostrazione di come si usa dal più grande luigi d'italia no ho iniziato malissimo ma poi sei ripreso all'ultimo no la seconda ammazzava mamma mia grandissimo ma sei se tommaso pico sei tommaso no no foltri no fallo 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 colpa mia colpa beh foltri ma un conto è giocare luigi per giocarlo un conto a giocare luigi per essere il migliore d'italia l'italia capito foltri è sentrato grande rox sta entrando rox ragazzi e lui è fortino ma è pure più forte di me solo non si sta impegnando su ultimate perché sta fa un po ragazzino si è fatto una vita ne è sposato e sa pensare altre cose no l'hanno salvato pico tanto alex si è messo stra in disparte è fastidio se basta boom è grande è andato di up tilt a stecca come sei uscito è stata involontaria è stata involontaria però mi chiamavano up b mi chiamavano up b mamma mia bellissimo bellissimo ha 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 questa è proprio l'associazione delito no perchè perchè l'ha preso l'homistocca l'ha preso l'homistocca bellissima bacia à madonna ragazzi di una maria io scusano alex non c'era era troppo通mento l'ansia perchè tu li hai rotto lo scudo con la testata si perchè è a partire il e fonti attenta alla balla bowling no che grande cazzo e che grande cazzo c'era la virgola e mezzo sia chiaro e niente prende il suo attacco ha affermato la balla da bowling poi c'è un pacco con una smash laterale da dietro abbiamo un incontro only ladies a se i sistemi spacco un pacman una cosa punta al naso perché l'hanno fatto con le braccia per se l'abbiano aggiunte sono molto dopo no ha fatto lo sporore adesso dovessi morire a bot come sono fatto solo l'ultimo anno usavo solo luigi e verso la fine mi stavo rompendo tantissimo una bot bravo ha provato a trapparmi da luigi domanda si è allora quindi tu c'è ti senti chiamato in casa quando poi sai trovarti di fronte più forte luigi l'italia che palle guardate se mai mi arriveranno fa la telecronica con quattro personaggi se mai mi arriveranno delle donazioni le riutilizzerò per comprare per comprare no è una telecronista abbiamo fatto finire il tempo quanti spettatori no 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 vabbè 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 che testa di cazzo ti ci vedrebbe neanche con di che prendiamo di che e perdiamo subito non state visto lo non personal ragazzi c'è stata una piccola distrazione il problema è arrivare ma come esce solo quei danni subiti no anche basta il passatempo mamma mia becker così oh ma non è finita vedi poi gliela ha assimilato bravolo sei un coglione non ti meriti nulla da questa vita però devi dire perdere tipo adesso e molti veriti proprio che tipo poi faccio fare una partita con marco trovo lo preparati adattare una luna che culo sto becker mamma mia la puzzettina così no no spico ammazzato da una sberletta a Luigi ha dato il buffetto finale educativo chiudiamo la porta di casa Romolo quando esci nooo sto personaggio del cavolo nooo sto personaggio del cavolo mamma mia romolo tranquillo romolo romolo è morto bella grande grande ripresa figo eh secondo me eh secondo me c'è avuto paura pure lui eh ci siamo graziati a vicenda mamma mia questo mustaggio si è rimbalzato male 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 sulla trappola mamma mia e parte la trappola ecco che lo pochetta mi fa ahahah ti è rimbalzato chi c'è l'ha nooo grave è stato bellissimo è stato epico entra dai non mollare che non molla che la troia ciao Trico Vapes già te ne sarei andato io a questo punto saluterei tutti quanti ragazzi ciao ragazzi è stato un super piacere mi sono divertito molto alla prossima mi raccomando il link è sgravissimo poi c'è un personaggio proprio di merda quindi c'era poco da fare ci aggiorniamo presto continuate a seguirmi mi è fatto super piacere vedere comunque c'eravate picco qua se beccamo se beccamo e te venimo a menare non sfuggi ciao 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 ciao